Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un tutorial con questo make-up che mi piace tantissimo. Oggi che sto registrando questo video è il giorno del compleanno del mio papà, quindi un auguri papino e quindi sto andando lì a mangiare la torta e tutto e quindi stiamo andando a festeggiare. Ho fatto questo trucco tra virgolette semplice, ho messo dei colori che mi piacciono e ho utilizzato due palettine con degli ombretti, gli ombretti sono quelli mono, ma ovviamente per sapere e stuzzicarvi la fantasia andate a vedere cosa ho utilizzato e ci vediamo alla fine. Ciao! 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 Ciao Lewis, ho utilizzato queste due palettine. In queste due palettine, se avete visto già altri video ho gli ombretti di Mac, il refill, sia in questo che, se riesco ad aprirlo, al contrario, brava Stefania questi due sono tutti ombretti della MAC ma ovviamente, visto che vi ho fatto vedere le cialde e le ho fatte vedere anche a me stessa perché quando poi caricherò il video vi metterò giù nell'info box tutti i prodotti che ho utilizzato sulle labbra, non so se si è visto, ho messo il kit, quello di Nabla dove abbiamo la matita Melrose e la tinta labbra, ovviamente Melrose, questo combo e sinceramente volevo mettere un po' di sbrilluccichio anche sulle labbra con il lipgloss, questo qui Shine Theory, che sarebbe sempre per quanto riguarda Nabla da metterlo così, proprio tipo tamponato proprio per riprendere, diciamo, la parte sotto degli occhi che ho ho messo un glitter va bene così va bene allora, vabbè la sedia va bene, io devo dire che sono soddisfatta del mio make up adesso vado a farmi i capelli perché se tolgo le mollette perderò un sacco di iscritti, meglio di no vado a fare i capelli, vado a mettere le scarpe e vado subito a festeggiare il combiano del mio papà quindi scrivetemi un commentino, ditemi cosa ne pensate, se vi è piaciuto o non vi è piaciuto o se aveste messo qualche altro rossetto, mac o altri tipi fatemi sapere tutto quello che volete farmi sapere io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao